Musica Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura La Cronaca è già uscito dal carcere e si trova agli arresti domiciliari il rapinatore che alcuni giorni fa venne bloccato dai residenti e dai commercianti di Piazza Zucchi ad Arezzo Il servizio di Chiara Sadotti Sono disoccupato e ho tre figli da mantenere questo in estrema sintesi quanto raccontato dal 27enne finito in manette per la tentata rapina in Piazza Zucchi nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Claudio Lara per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari a casa della madre mentre la PM Laura Taddei aveva chiesto la custodia cautelare in carcere Il 27enne originario di Napoli difeso dal legale Giacomo Chiuchini era stato arrestato lo scorso mercoledì quel giorno era entrato in un esercizio commerciale brandendo una pistola a giocattolo era stato poi messo in fuga dal titolare del negozio ed infine placato da alcuni residenti e commercianti della zona che lo avevano consegnato alla polizia anche agli stessi cittadini che lo avevano fermato l'uomo aveva raccontato la stessa versione riportata poi al GIP nel carcere a Retino chiedeva scusa perché mi ha detto ma che hai combinato che ti è venuto in mente c'è un ragazzo giovane e mi ha raccontato che aveva tre figli e appunto se hai tre figli vai a chiedere aiuto alle istituzioni a chi di competenza fate aiutare c'è bisogno per il 27enne l'accusa è quella di rapina adesso resterà ai domiciliari in attesa che venga fissata l'udienza per il giudizio Ancora un incidente stradale è accaduto nella notte in Valdarno un giovane è rimasto seriamente ferito erano le due circa quando i mezzi dell'emergenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti nel comune di Bucine nei pressi della frazione di San Pancrazio qui un uomo di 28 anni ha perso il controllo dell'auto e ha riportato serie ferite il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso sul posto è intervenuta un'ambulanza di Montalto con misericordia di Lucignano e adesso parliamo della Pasqua perché sono tante le iniziative le rappresentazioni delle vie Crucis che ieri sono tornate ad animare ogni angolo del territorio aretino noi vi proponiamo quello nella collina di San Zeno vediamo una notte di suggestioni ed emozioni con la passione di Cristo sulla collina nel piccolo paese di San Zeno nel venerdì santo è tornata così la 38esima edizione della rappresentazione della via Crucis un viaggio indietro di 2000 anni tra figuranti in abiti storici scenografia ispirata agli antichi romani e illuminazione con le fiaccole da allora la vita di Gesù era nelle mani di Pilato solo lui poteva decidere di Gesù vivere o morire vivere o morire la passione di Cristo sulla collina ha preso il via nel piazzale della chiesa con la rappresentazione delle prime scene dalla cattura nell'orto degli olivi al processo da Ponzio Pilato poi il calvario di Gesù scandito da una processione lungo le vie del paese illuminate dalle torce tutta l'umanità e tu compresa vivrete proprio perché io morirò un percorso d'anello di circa un chilometro che ha fatto ritorno negli spazi aviacenti alla parrocchia dove si è svolta la scena più emozionante con la crocifissione di Gesù, il dialogo con i ladroni e il monologo finale che ha concluso la rappresentazione tu non eri nostro fatto da me, da noi eri un dono di Dio quando verrà la sera noi torneremo a casa ma tu non ci sarai, sarai col Dio, sarai col Padre lo pregherai per noi non piangere sovanni trattieni il pianto dolce Maria la fede la speranza un po' d'amore un brivido d'immenso una donna un bambino e Dio si è fatto carico farci portatori di buone notizie laddove incontriamo attesa e solitudini questo il messaggio per la Pasqua di Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro la sua prima Pasqua alla guida della Diocesi Aretina vediamo il servizio prima Pasqua per il Vescovo di Arezzo Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca che abbiamo incontrato qui proprio nel Sagrato del Duomo per il suo messaggio appunto a tutta la Diocesi siamo in questa piazza del Duomo di Arezzo ora piena di luce piena dei raggi del sole e allora il primo pensiero è a un augurio di luce che arrivi nelle nostre case nei nostri cuori nelle nostre vite è un tempo in cui zone di ombra ci sono conosciamo le difficoltà economiche vicino a noi c'è la guerra con tanta violenza e con situazioni di morte di distruzione ma anche veniamo da anni davvero di difficoltà e poi ci sono le ombre che ciascuno di noi conosce della propria vita, del proprio cuore entri la luce ecco che la Pasqua faccia entrare la luce e la luce rinnova le cose riporta vita, porta speranza energia per camminare e per noi la luce è Cristo risorto in fondo il segno che lo richiama nella notte di Pasqua è il cero acceso che viene benedetto segno della presenza di Gesù vivo che ha illuminato ogni ombra ha portato la luce ha portato la vita allora l'augurio è questo che nelle nostre case nelle nostre vite nel nostro mondo di oggi arrivi la luce che è Cristo risorto che per tutti noi, per voi diventi speranza e nuove possibilità di cammino per lei è la prima Pasqua da Vescovo in questa diocesi che immagino avrà un po' iniziato a conoscere lei ha voluto davvero essere presente in tutti gli angoli di questo territorio che cosa ha portato questa presenza così capillare che cosa ha capito di questa comunità anzitutto mi sono arricchito perché incontrare le diverse zone e le persone le situazioni delle diverse zone aiuta a capire le diversità e le ricchezze di ciascun territorio di ciascuna area, le tradizioni che le accompagnano e le prospettive che ci sono quindi è stato un arricchimento per me poi la mia presenza, la mia visita oltre che per conoscere ho bisogno di conoscere la diocesi voleva essere e vuole essere anche un segno di presenza della realtà diocesana in ogni territorio è qui nella città ma in ogni angolo della diocesi anche nel paese più lontano e sulle montagne è presente la chiesa e il mio andare in quei luoghi vuole essere segno reale di questa presenza e oggi il gruppo giovanile del quartiere di Porta Santo Spirito è andato a far visita ai bimbi del reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo in occasione della Santa Pasqua una delegazione di figuranti ha ringraziato i medici per il loro lavoro e salutato i bambini regalando uova di cioccolato e la chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo ha fatto da sfondo al messaggio di auguri da parte del Presidente delle Misericordie d'Italia assieme al Governatore Nazionale Monsignor Agostinelli li sentiamo nel servizio di Greta Settimelli Girando l'Italia incontrando tanti volontari tanti volontari ho nel cuore ognuno di loro ho nel cuore le famiglie ho nel cuore i sofferenti gli invisibili, gli ultimi per i quali le misericordie da otto secoli sono al loro servizio al servizio del prossimo è a loro, ai volontari soprattutto coloro che sono impegnati nelle Misericordie d'Italia che il Presidente Nazionale Domenico Gianni rivolge il suo augurio nella Settimana Santa questo uomo, il Cireneo che si fa carico un uomo della strada che è stato preso e gli è stato chiesto di portare la croce di aiutare Gesù a portare la croce ecco, pensando al Cireneo pensa a tutti i nostri volontari che, ripeto, da otto secoli ogni giorno si fanno carico della croce dell'uomo sofferente quindi l'augurio è perché continuiamo su questo spirito lo spirito del Signore lo spirito del Vangelo lo spirito del Fondatore San Pietro da Verona che attraverso le opere di misericordia appunto chiese a quei fedeli del tempo di salvare la fede e di salvare la persona l'augurio è assieme al Correttore Nazionale delle Misericordie e Sua Eccellenza Monsignor Franco Agostinelli da Arezzo ed in particolare dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie Santa Maria delle Grazie luogo caro alla cittadinanza aretina perché luogo di antica tradizione addirittura una tradizione pagana perché qui venivano appunto per i culti pagani che San Bernardino riscattò ecco perché ricuperò alla tradizione cristiana questo luogo dedicandolo alla Madonna Santa Maria delle Grazie appunto il santuario che oggi viene così ecco venerato mi unisco volentieri agli auguri del Presidente prima di tutto per esprimere il mio augurio il mio compiacimento anche perché i volontari sono per noi vorrei dire un compagno di viaggio ma sono anche testimoni che ci aiutano a vivere il nostro presente in conformità e in coerenza con la scelta della nostra fede e mi auguro che veramente ecco la fede possa essere elemento costitutivo del nostro cammino così siamo nati fin dai tempi 1244 quando iniziò il percorso delle misericordie e mi auguro che la fede veramente affianchi il cammino dei volontari ai quali si chiede competenza prima di tutto perché ovviamente devono accudire e devono soccorrere gente sinistrata in un modo o nell'altro però ecco devono portare anche anche tanta umanità e questo vuol dire ecco è la fede che può veramente costruire questa sensibilità per portare ecco accanto a un aiuto di carattere materiale un aiuto anche di carattere spirituale quindi gli auguri che io faccio che il cammino dei volontari veramente non debba dimenticare queste due dimensioni costitutive costitutive la nostra storia costitutive del nostro passato ma certamente anche del nostro presente questo vuol dire rigenerazione questo vuol dire lasciatemi dire siamo nel giorno della Pasqua vuol dire Pasqua di risurrezione e Arezzo è stata scelta al posto di Roma o Firenze come meta turistica perché meno inflazionata sarà una Pasqua e una Pasquetta da tutto esaurito vediamo siamo qui siamo veramente estasiate stiamo setacciando il territorio letteralmente siamo molto molto contenti era 15 anni che mancavamo anche dopo tre anni e mezzo per via della pandemia per cui insomma tutto un po' quindi il primo viaggio un po' più lungo però molto contenti adesso andremo a visitare la Cappella Baci di Piero della Francesca e quindi ottimo non posso dire altro Arezzo è ormai una meta turistica conclamata anche nei periodi diciamo di bassa stagione ancor più ovviamente in questo weekend pasquale che si profila da tutto esaurito Arezzo è ormai una meta conclamata dal punto di vista turistico lo dicono i dati che riguardano l'occupazione media delle camere nelle strutture ricettive nelle strutture il tasso di occupazione che adesso c'è sul venduto diciamo per motivi scaramantici diciamo che è superiore al 90% ma non dubitiamo che questo possa arrivare tranquillamente al 100% tra le mete più ricercate in testa c'è la Cappella Baci ma anche la Pieve il crocefisso del Cimabù e il Duomo e i luoghi della vita è bella eh sì infatti bellissimo infatti si sente anche la musica della vita è bella che risuona ogni tanto comunque io vengo da Torino e appunto sono venuta a trovare Paola che è a retina io sono davvero sono di Vicenza molto bella molto carina poi abbiamo una guida che ci aiuta a capire i dettagli le cose che magari non si vedono nelle guide per turisti siamo andati alla Pieve grande fan della Pieve poi facciamo il giro si è aperta la confraternita dell'Aice e volevo portarli su poi in casa del Petrarca a Duomo domani si fa l'anfiteatro poi li porto un po' in giro sì sono stata nell'88 non mi ricordavo niente e sono tornata con molto piacere perché veramente è una città che cioè come vederla la prima volta venite ad Arezzo tutti e tra le mete gettonatissime in questa Pasqua c'è sicuramente anche Cortona secondo quanto si osserva sulle piattaforme a Cortona le disponibilità last minute sono relative alle ultime camere in strutture alberghiere di fascia medio alta un segnale incoraggiante per tutto il comparto che in questo lungo fine settimana scalda i motori in vista della nuova stagione turistica arriviamo a Pasqua dopo un mese di marzo molto positivo dichiara Denise Peratoner titolare del servizio dell'agenzia Together in Toscani abbiamo notato già nelle precedenti settimane un ritorno consistente di visitatori anche di località estere si notano in particolare crescite fra Est Europa e Spagna buona anche la provenienza fra coloro che risiedono nelle strutture in prossimità di Cortona come quelle del Trasimeno e a Terezzo è tornato vino chilo vintage chilo sale la più grande vendita di vestiti vintage d'Europa vediamo il servizio bene avete visto tanti ragazzi avete visto il mercatino vintage però dietro c'è un messaggio diverso che noi vogliamo dare che è quello di ridurre l'inquinamento da fast fashion che cos'è la moda veloce quella che tutti i giorni vediamo cambiamo abiti da un anno all'altro e la domanda è tutte le collezioni vecchie tutti i vestiti vecchi dove vanno a finire vanno a finire in un grande inquinamento che inquina il 20% delle nostre acque infatti il settore tessile di lavorazione ha un inquinamento e un impatto molto alto oltre alla produzione di più di un miliardo di tonnellate di CO2 l'anno quindi con la costruzione di questi mercatini di economia circolare riusciamo ad abbattere una buona fetta di questo inquinamento quindi questo è lo scopo dell'evento con vino chilo che ringrazio perché sono una start up anche loro sono tedeschi e tra italiani e tedeschi cerchiamo di collaborare anche a livello europeo per abbattere le emissioni di CO2 I residenti della zona di via Emilia ad Arezzo stanno raccogliendo le firme per salvare il parco Fiorentina dopo la decisione dell'amministrazione comunale di costruirci all'interno un nuovo centro di aggregazione ad intervenire sulla vicenda è il gruppo consigliare del PD per bocca di Matteo Bracciali che ha presentato una interrogazione nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale chiedendo se non ci fossero altre zone pubbliche per inserire questa importante opera nessuna risposta nessun vero approfondimento per garantire che il nuovo centro di aggregazione venga inserito in un'area adeguata agli scopi fondamentali che ha ha sottolineato Bracciali purtroppo la risposta è sciatta e superficiale proprio come la scelta della giunta Ghinelli che restringerebbe infatti gli spazi verdi e eliminerebbe non un'area cementificata come ha scritto l'assessore Casi in un'intervista ma il campo da basket è quello da calcio dove si danno appuntamento ogni giorno tanti giovani al parco Fiorentina i cittadini hanno già raccolto più di 300 firme in pochi giorni e noi sosteniamo questo sforzo con la nostra opposizione all'interno del consiglio comunale conclude dunque Bracciali adesso passiamo alla cultura penultimo appuntamento al teatro Petrarca di Arezzo per la stagione concertistica aretina sentiamo il servizio di Chiara Sodotti la celebre English Chamber Orchestra diretta dal maestro Zuckerman protagonista del penultimo appuntamento della stagione concertistica aretina è un'orchestra storica è un'orchestra con decenni di storia è un'orchestra che ha fatto una storia importante della discografia musicale ed è un'orchestra che è riconosciuta in tutto il mondo ma soprattutto in Inghilterra come un punto di riferimento per un certo tipo di musica il maestro Zuckerman protagonista sul palco del teatro Petrarca anche nei panni di violinista e violista con il contributo al violino del direttore artistico della rassegna Giovanni Andrea Zanon in ogni frase c'è qualcosa di nuovo in ogni nota c'è qualcosa da imparare per cui sono sono quei musicisti che hanno fatto la storia per la loro conoscenza della musica per la loro visione della musica e poter rimparare un po' di questo sapere è veramente qualcosa di speciale protagonisti del programma tre fra i più straordinari capolavori della musica concertante nati dalla creatività di Bach e Mozart inizieremo con il concerto per due violini di Bach poi ci sarà il concerto numero 5 di Mozart per violino orchestra e poi la celeberrima sinfonia concertante per violino e viola di Mozart e in chiusura andiamo alla pagina sportiva il lunedì di Pasquetta la US Policiano con il patrocinio del Comune di Arezzo il CSI di Arezzo e il CAS del Colle del Pionta organizzano la 21esima edizione della Parco Corsa la competizione ecologica e sportiva si sviluppa nei principali parchi della città e rappresenta una classica del lunedì di Pasquetta il ritrovo è previsto alle 8.30 presso il CAS del Colle del Pionta e con questo è davvero tutto per il nostro consueto appuntamento con l'informazione a me che non resta che augurarvi da parte della redazione una serena Pasqua grazie per l'attenzione e arrivederci